Batte la Fidelisandria e coglie così la prima vittoria nel girone di ritorno. Al sedicesimo della ripresa fallo di Scarponi sul croato Erceg. L'arbitro Nuccini fischia il rigore, Tentoni spiazza Pantanelli. Al quarantaquattresimo Flachi viene fermato in area da Frezza. L'arbitro assegna il secondo rigore all'Ancona. Batte Flachi che fissa il 2-0 finale.